di manifestare se stessi, ecco questo è qualcosa di fondamentale, questo utilizzo dell'antagonista poi se un antagonista è mirato ancora meglio genera un forte effetto sulle persone, ma ripeto anche un effetto energetico ma anche proprio un effetto diciamo istintivo, questo ovviamente deve avvenire dopo che hai lasciato passare un po' di tempo, non è possibile farlo subito e dopo aver evitato i messaggi strappalacrime, se per caso hai mandato messaggi o cose strappalacrime devi far passare ancora più tempo, diciamo che devono passare almeno 21 giorni dall'ultimo messaggio strappalacrime che hai mandato per intraprendere la cosa, non importa che questa abbia una relazione che non ce l'abbia, non c'entra, diciamo che la parola magica è creata una vita sociale, quindi non richiederti in casa a guardare le vecchie foto, a guardare le che cose, ma creare una nuova vita sociale questo ha degli effetti positivi, il fatto di sentirti meglio innanzitutto, di sentirti più bella, più bello, più interessante e poi diciamo così che sicuramente andrà a guardare, andrà a spiare, andrà a controllare quello che fai e ripeto anche il cane quando un osso non gli interessava più, se quell'osso gli viene sottratto inizia a sentirne la mancanza. Poi un'altra cosa che devi fare è creare una modalità in qualche modo per un incontro, che possa essere un incontro casuale, che possa essere un incontro fortuito, dove manifesterai, dove se possibile manifesterai la tua indifferenza, il tuo distacco e lascerai che sarà l'ex a fare un passo verso di te, nel momento in cui hai fatto il passo il gioco è fatto, perché poi potrai mettere tutti i vincoli di questo mondo, anzi dovrai mettere vincoli, questo è fondamentale. Bene, per questo video è tutto, ti ricordo gli appuntamenti di Milano, domenica 1 marzo 9.30 e 19.00, Sime seduzione e in amore al lavoro, e l'appuntamento di Torino venerdì 6 marzo, ore 20.45, eliminare i blocchi emotivi per avere la felicità che ti meriti, riferimento 333 15 11 703. Bene, spero che questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, mi raccomando, abbonati al canale Massimo Terramaschi, abbonati al canale, felicità benessere, ciao a tutti.